Red Cansian è uscito dalla terapia intensiva a confermare la notizia dopo la grande paura per la brutta infezione al cuore che aveva costretto l'ex Poo a saltare la prima del suo spettacolo Casanova Opera Pop e il figlio del musicista Phil Mer che ha aggiornato i fan su Facebook. Abbiamo ricoverato Red a inizio mese e spiega sui social una sfortunata coincidenza proprio con il primo giorno di prove di Casanova Opera Pop. Da allora la situazione di una brutta infezione è andata fortunatamente migliorando e l'altra sera alla fine dell'anteprima dello spettacolo Red ha voluto diffondere un audio messaggio in cui giustificava la sua assenza e ufficializzava la notizia. Confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza. Grazie a tutti.